Ciao! Eccoci per la video newsletter di questo mese. Cominci tu? Sì, comincio con le novità. A parte che la novità di quest'anno è la video newsletter. Visto il successo della prima abbiamo deciso di andare avanti, così chi non ha voglia di leggere comunque rimane aggiornato. Allora, la prima novità l'avevamo già anticipata, è l'arrivo di Shana di nuovo anche quest'anno, che terrà diversi seminari. Per quanto riguarda il gruppo dei seminari yoga atletica, Shana terrà dei workshop veramente carini. Il venerdì mattina dedicati a flow e transition, il venerdì sera dedicati a suriana mascara saluto a sole intervallati dalle verticali, il sabato pomeriggio arm balance per principianti e la domenica pomeriggio invece per gli avanzati. Questo a fine ottobre, a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre, quindi 30-31 ottobre, 1 novembre. E poi il 2 novembre ci sarà il seminario mini yogis per adolescenti, quindi una novità rispetto all'anno scorso, in cui appunto aggiungeremo anche il lavoro con gli adolescenti. Adolescenti come noi. Esatto. Ed è un corso molto interessante non solo per quelli che già insegnano, che vogliono approfondire, ma anche per coloro che vogliono più approfondire la conoscenza, la pratica dello yoga, di diversi metodi e stili di yoga. Poi un'altra novità, mercoledì 21 ottobre comincerà il corso di Silat, che è un'arte marziale indonesiana, giusto? Sì, sì, neanche io ne so un granché, perché il nostro esperto è Walter, il quale presenterà poi la disciplina, il corso e la modalità con cui viene insegnata e praticata al centro durante le prime lezioni. Esatto, quindi dal 21 ottobre siete invitati a venire a fare la lezione di prova, se volete potete già cominciare a prenotarvi adesso mandando una mail. Ecco, e poi appunto, a proposito di mail, è online il nuovo sito, per cui navigatelo con tutti i mezzi disponibili, con il computer, con il tablet, con i cellulari, inviateci tutti i feedback del caso in modo tale che abbiamo anche la possibilità eventualmente, se dovesse esserci dei malfunzionamenti o con anche dei suggerimenti, sono sempre ben accetti. A tal proposito, volevo dire una cosa, il nuovo sito è fatto in modo che possa essere letto in maniera agevole da pc, ma anche da tablet e soprattutto da telefoni. Siccome abbiamo deciso di cambiare il sito perché ci sono arrivate diverse segnalazioni che il sito non era leggibile sul telefonino e l'app non funzionava bene, anzi su alcuni telefoni non funzionava proprio, per cui a tendere da dicembre l'app non esisterà più e quindi non peserà più sul vostro telefonino, potrete semplicemente andare su Safari e andare a visitare il sito che sarà sempre aggiornato. Certo, mi raccomando mandateci tanti feedback, questo è stato un bel lavoro, ho costato diverse notti insonni, ho perso anche i capelli per colpa del sito. Se ci aiutate a tenerlo sempre, a migliorarlo sempre, ve ne siamo molto grati. E quindi speriamo di vedervi al centro. Ciao, a presto. Ciao.